Giuseppe, 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 che cacchio, dove cacchio sono? Ah, Francesco, Francesco, sono inchiuso nella mia stessa cella. E perché ho della terra? Fra, sono inchiuso nella mia stessa cella e va a fuoco. Cosa? Fra, qui, dietro di te. Dove? No! Arriva, Giuseppe. Fra, sono qui, aprimi, aprimi. Cosa c'è? Aprivi. Non posso aprire. Aprivi. Aprivi, cavolo. E come faccio? Da sotto, qua. E qui sopra cosa c'è? Vuoi vedere veramente? Ok, però chiudi. Ma perché eri... Eri intrappolato? Non lo so, non lo chiuso. Io lo so, cosa c'è? Volevi, eh? Volevi! Dai, dove siamo? Nei tuoi mondi strani. Ok, Giuseppe. Ok, fra. Allora, siccome ti porto sempre i mondi strani, ho deciso oggi di farmi un altro. Oh, carne di mucca, carne di... Ma io prendo il maiale, il maiale. Ok, io mi prendo questo di mucca, sì. Quindi che dobbiamo fare? Allora, leggi il cartello che si trova qui. Dove? I cartelli che si trovano qui. Ok. Li leggi tu. Spiegazioni. Allora, il cubo arancione non c'è niente, oltre se non c'è la cassa che... Che, ciao. Che c'è qualcosa dentro. C'è stato scritto, ok? Qua dentro ci puoi trovare spade, carne... Ok. E il cubo rosso, devi seguire la linea rossa, la linea rossa, questo qui, che tipo ti porterai in un altro cubo di giù. Ah, ok. Il cubo verde, ci sono cose belle e cose brutte. Quello verde, si possono trovare tipo delle cose belle e delle cose brutte. Ah, cazzo. Il cubo, il cubo si fa andare a... si va avanti e di un po'. Ah, io ci sono... Il cubo rosso e verde, quello che vedi là sotto, quello rosso e verde, devi combattere con... No, quello là sotto. Qua. Ah, sì. Quello rosso e verde, devi combattere contro il tuo avversario. Chi vince va avanti di uno e il partente va indietro di uno. Allora, siccome non so cosa fare... Diciamo a Google. Iniziamo? Non mi mettete like ai video, va. Iniziamo? Sì. Allora, inizio io o tu? Inizio io. Ok. Google, tira un dado. Google, tira un dado. Basta, romp. Google, tira un dado. Vediamo. Sta tirando? Eh, dovrebbe tirare. Non sta tirando. Sì, aspetta. Sei! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! Sì! Ne trovano! Vai avanti! Tum, 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 tum! Ok, sono bravo, eh. Adesso tu... Google, però partirà un quarto d'ora. Cinque! Cinque! Non ho niente, cavolo. Vediamo quanto mi dirà a me. Uno! Che? Uno. Che? Dove devo andare? Qua! Lo spado nel sommo! Ma non mi devi uccidere, cavolo! E mi è che pare, mi è che... E mi è che pare, mi è che... Oh, no! Allora, uno. Quindi io... Io ero qui, il tubo, ciao! Vabbè, intanto vieni qui. No! Dopo mi si batte in un orto. Ok, adesso io. Google, tiro un dato. Vediamo cosa esce. Scusa, oh... Niente. Google, tiro un dato. Cinque! Uno, due, tre, quattro, cinque. Adesso io, adesso io! Google, tiro un dato. Quanto è? Cinque pure, vieni. No, aspetta. Aspetta, no. Io ero qui, quindi... Uno, due, tre, quattro, cinque. Oh, mamma mia! Adesso tu, vai, vai, vai! Google, tiro un dato. Zero. Due. Non c'è niente. No, no, voglio vederti che fa il sentiero. Google, tiro un dato. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Cos'è sta roba? Salgo. Come un riccio. Perché godi come un riccio, Gio? Scendi, dai, buttati. È un trampolino, un bellissimo. Ah, fa... Ah, va, 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 va. Vediamo quanto esce, vediamo quanto esce. Cinque! Cinque! Vai! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! Oh, sì, vabbè! Eh, vabbè! Ok, adesso io. Un arco. Eh, come? Mamma mia. Google, tiro un dato. Sei stufo. Sei, ma quanto? Uno, due, tre. Quattro, cinque, sei. Sì! Cos'è? Un tridente. Ah, vabbè, dai. Te lo ficco nel culo. Google, tiro un dado. Che? No, no! Vieni! Vieni! Quanto vincerò io con questa spada? No, ma non dobbiamo usare le spade. Beh, anche se... Ti pugni. Ah. Secondo te perché ho messo un bacon? Eh, anche perché servono queste cose. Per guardarla sotto, cosa c'è? Ah, cacchio. Allora, qua ho messo forza dal bacon. Capito? Ok. Tre. Ah, no, no, no. Eh. Google, dacci il via. Al momento ti trovi in via Valle Maggio. No, ma non... Ah! Vabbè. Non l'avete sentito, eh. Mettiti là sotto. Senza spade, cavolo. Ok. 1, 2, 3, 2, 1, via. Sì! Sì! Oh... 2! 1, 2! Cosa è questa rama? Sì! La faccia è tua! L'ultimo che arriva si prende tutto quello che è rimasto nelle ceste. Cosa? Ma... Sì, ma il primo che arriva si prende una cosa potentissima. Oh, che potere! Vai, 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 Giuseppe. Vai, tira il dado. Google, tira il dado. Tanto non c'era niente! Ahahahah! O o... 2! 1, 2, 3. Yeee! Sono bravissimo, eh! Google, tira un dado! Ehi... 2! Ehi... 1, 2, 3, 2, 3. No! Dai, io vado sempre insifici al cavolo. Tutti presi! No! Google, tira un dado! Adesso vedi che sono io. una e due google tiro un dado non mi raggiungerai mai davvero dammi il tridente che ti ammazzo dammi il tridente dov'è disgraziato dov'è il tridente che schifo sono in un coso rosso adesso devi fare tutto google tiro un dado non puoi mangiare le mele non le mangio il potente francesco è qui è uscito 6 6 1 2 3 4 5 6 ok dai io ti odio proprio google tiro un dado google tiro un dado google tiro un dado 3 ma cosa c'era no ma ti odio nella cest nella cest perchè perchè mica hai preso un ah scusosa google tiro un dado google tiro un dado sono io 1 no aspetta aspetta 1 2 3 1 2 3 cosa dici ma guarda io ero nella cesta eh 1 1 ah si cacchio la tristezza arrivederci google tiro un dado google tiro un dado 1 guarda ora 1 2 1 e 2 google tiro un dado guai ci restiamo un quarto d'ora qui eh 4 1 2 3 4 si google nooo si 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 ah ma che bottone si ma metto il bottone eh ma non ce li ho adesso ah si adesso si ma li ho direttamente messi e c'è giù ma questa spada è più potente di questa lo so fra ci scambiamo un po' le cose no no mai queste sono tutte cose mie aspetta dammi lascia magari fra ma sono tutte cose mie no fra ma magari lascia sono tutte cose mie andiamo ma magari lascia fra chi è questo tipo perchè c'è un piglin si deve collaborare perchè c'è un pigman con dammi un ascia giuseppe perchè c'è un pigman con la balestra no perchè è un piglin 3 pronto ci sono pure i predoni ok quindi è finito il gioco ok via ah è l'inciso 3 2 1 via c'è un baby c'è un baby dove cacchi è il baby ah ah stupido non so come glion tenemos giuseppe che cacchi è il blue vuoi sapere una cosa bella uii Grazie.